Abbiamo concluso questo stage, ultimo in preparazione delle partite contro la Romania. Mister ha voluto farci correre molto, anche nelle due amichevoli che abbiamo giocato. Abbiamo ottenuto un buon ritmo, infatti anche i risultati parlano. Magari non abbiamo espresso un bellissimo gioco, soprattutto in difesa, però quello che voleva Mister era farci correre, farci magari prendere un po' di fiato e vedere le collaborazioni in attacco. Tutto sommato ci abbiamo provato, ci siamo riusciti. Adesso andiamo a casa per una settimana, continuiamo a prepararci individualmente per poi trovarci qui domenica, metterci tutta la grinta, come ha detto anche Freddy, per giocare contro la Romania alla morte e provare a fare qualcosa. Avete già visto la Romania all'opera? Sì, abbiamo fatto delle analisi, ci abbiamo fatto vedere dei video del Mister e ci stiamo preparando, avremo anche qualche giorno prima della partita qui a Conversano in cui mettere a posto gli ultimi dettagli. Comunque abbiamo già guardato tutti i nostri avversari abbastanza dettagliatamente. Un invito al pubblico della palla a mano per la partita del 10. Siamo qui a Conversano, è una delle piazze più calde d'Italia e speriamo che tutto il pubblico ci sostenga, si riempa questo bellissimo palazzetto e vi aspettiamo tutti a Conversano alle 8.30, mercoledì 10 giugno prossimo.